ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale oggi siamo sui football 2024 per ovviamente la nostra rubrica del nerd dove andremo a vedere un pochino quello che potrebbe uscire lunedì con gli epici che comunque avete sotto la mia webcam ormai è una rubrica settimanale dove appunto andiamo a vedere a spulciare un pochino questi queste carte che potrebbero uscire ma ribadisco che non è al cento per cento ufficiale forse forse adriano mi sento di dire che è confermato ma per quanto riguarda anche ned ved ma soprattutto guns non ne sono certo perché voci di coi due dicono che potrebbe uscire addirittura ronaldino è veramente utopistica come cosa lo sapete questo discorso lo faccio ogni volta perché comunque mettere due giocatori addirittura tre giocatori di questa portata in unico pacchetto per loro potrebbe essere un'occasione mancata per di proporne un altro con un giocatore top un giocatore buono e un giocatore comunque potenzialmente scarso lo sapete che lo fanno ogni volta in questo caso adriano sarebbe il top del banner con ed vedo buon giocatore e soprattutto ganz una vera schifezza quindi insomma vedremo un pochino quello che potrebbe essere nello specifico per andare avanti lo sapete quello è sempre fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciare sempre tanti bei like di supporto vi devo ringraziare per tutto quello che fate ogni giorno perché siamo veramente in tanti e guardate i miei video e lasciate soprattutto tante reaction che sono straordinarie commenti fantastici continuano così perché è importante provare arrivare ai 4000 iscritti quanto prima andiamo a vedere nell'effettivo i nuovi giocatori ma ovviamente raga questo è un'immagine presa dal mio gruppo telegram quindi quello non avesse ancora fatto venite anche a trovarmi nel mio gruppo telegram appunto tutto sotto link in descrizione hanno giro queste immagini con adriano nedved e ganz allora adriano devono fare un lavoro della madonna secondo me per per farlo un bel booster sul controllo corpo sarebbe ideale perché se ricordate il big time era veramente un tronco esagerato nedved molto molto interessante e ganz a me non fa impazzire però dai andiamole a vedere allora ragazzi eccoci qua con adriano ho cambiato un po il modo di farvi vedere le carte semplicemente perché tramite l'emulatore che ho a disposizione ho scaricato il football hub da dal mio store effettivo e quindi riesco a far vedere in maniera diversa senza quelle tante pubblicità che comunque venivano venivano fuori allora adriano è un rapace da area e alto 189 pesa 90 kg e questa cosa qua già un po particolare 24 anni quindi il momento più importante della sua carriera dove davvero era il devasto assoluto io me lo ricordo una bestia assolutamente un campione esagerato peccato che la testa non gli abbia permesso di essere comunque costante non da vedere un po come vorremmo strutturarlo questo giocatore avesse anche 31 livelli di crescita non contando sempre il booster come puntali e lo massimo a fare come punta lui dovrebbe avere questo tipo di statistica secondo me è veramente tanto esagerato posso spoilerarvi io come potrebbe uscire come carta secondo me non avrà 30 livelli di crescita ve lo dico già perché secondo me ne avrà di più andiamo anche a 33 a livelli di crescita perché 95 troppo poco andiamo a dargli i punti massimi avrebbe fuori una bestia del genere con finalizzazione 85 calci piazzati 83 80 vabbè ci sta l'equilibrio 86 potenza tiro comunque 92 e accelerazione 86 e veloce 80 secondo me no quindi andiamolo un po a ribildare con tiro e abbassiamo qualche punticino anzi motivo di rimanetare dribbling 5 un po poco destrezza gli abbasserei due colpetti così per recuperare qualche punto forza arti inferiori forza in aria e ribassiamo due punti 78 ragazzi e forza in aria ci può stare così abbiamo recuperato qualche punticino abbiamo le coloro che punticino io gli darei sul dribbling perché altrimenti è tronchissimo ragazzi e qualcosa ancora sul tiro poi vedete un po vuoi magari sul colpite a 6 si potrà un colpo no forza arti inferiori forza in aria 75 verrebbe fuori una roba del genere capite che stiamo sempre basandoci su 33 livelli di crescita e se io volessimo comunque dare lo stile gioco dell'allenatore diamo anche per dire un'allenatore che fa 85 di stile di gioco e venendo fuori una roba del genere venendo fuori una roba del genere cioè insomma non è male non è affatto male un giocatore che dovrebbe fare 101 102 in game con il booster e gli stiamo dando comunque dei livelli di crescita esagerati in game farà 99 col booster e voi fa 102 assurdo comunque detto questo coach 85 sta significare comunque lo stile di gioco dell'allenatore se facesse anche 87 con un con club 88 mi pare con 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 roman che poi sarebbe guardiola su giocatore fa 103 acento esagerata su me 31 livelli cresce sono più che buoni per lui però vedete il comportamento offensivo 86 insomma ci sono attaccati molto più performanti rispetto rispetto a questo adriano secondo me è forte però per chi non è interista io lo salterei a pavel nedved della juventus giocatore chiave ecco perché vi dicevo prima è una carta secondo me devastante perché perché comunque sa il fatto suo è un trequartista non è non è manco un cc l'abilità sono fine edizione acrobatica tiro a scendere a giro di istante lancio lungo veronica e esterno a giro cross calibrato tiro a salire passato riflettente passato arrivato ragazzi è un trequartista fatto e finito questo nedved andiamo un po a comporlo vediamo il livello massimo come trequartista e viene fuori una bestia del genere e insomma qui stiamo parlando di un trequartista che potrebbe essere top veramente top io non gli toglierei assolutamente nulla dal dalla build automatica perché un trequartista è un trequartista rimane forse magari qualche punticino sulla finizzazione da lei visto che comunque è un giocatore che fa il trequartista giocatore chiave deve anche finalizzare deve anche saper finalizzare magari togliere qualche punticino sul sulla sulla potenza di tiro magari vediamo un po se riesco e visto che c'è tanta tanta resistenza non ci interessa magari facciamo così togliamo qualche punto punto qua e un punto anche sull'accelerazione recuperiamo quattro punti e li andiamo a dare sul tiro fino a direzione 82 secondo me è comunque top già così è davvero devastante andando a dare uno stile di gioco da allenatore che ha sempre 85 questa carta viene fuori una roba del genere illegale quindi anche dagli 31 livelli che c'è su me è veramente tanto tanto esagerato e a sto punto io eviterei di farlo così spregiudicato comunque giocatore devastante che può fare il trequartista ovviamente non può fare la seconda punta poi cecile esterno destro il cld il cls e l'esa fa qualsiasi cosa te lo fa benissimo giocatore clamoroso prima versione di guns del milan opportunista e qui vedete già le statistiche sono molto molto più basse rispetto ai primi due ovviamente andiamo a dargli i livelli che gli spe penso 31 32 livelli di crescita anche lui è non di più nella maggiore delle ipotesi ho dato 32 livelli di crescita siccome è un attaccante opportunista vediamo come lo struttura la cpu mamma mia mamma mia anche volendo dargli se che fino al punto sull'accelerazione per darlo sul dribbling ragazzi a me siamo un giocatore messo lì un po così 94 in 94 come come al finale un po poco a questo punto io gli alzerei un po i livelli portiamolo anche 34 34 34 e lo portiamo al livello massimo cambia realmente un cavolo cioè comunque deve fare 97 in game vediamo con lo stile gioco dell'allenatore ok fa 98 fa 98 col booster deve fare anche 100 101 non è possibile secondo me era meglio forse portarlo a 32 livelli probabilmente vediamo un po così lo facciamo con già 97 con lo stile gioco dell'allenatore è molto più attendibile io non gli cambierei di molto la build ragazzi perché questa è questa rimane dandovi qualche punticino di più sul divino non vi cambia la solfa non sa passare il pallone un attaccante che deve rifinire e basta dei tre penso che lui sia quello più difficile da utilizzare di conseguenza il più scarso e per quanto mi riguarda poi c'è chi saprà utilizzare questi questi giocatori in maniera top e allora chapeau però in ogni caso non mi sembra un giocatore da avere per forza di cose adriano anche lui per gli interisti potrebbe essere un'idea io che sono romanista e ce l'ho avuto per un anno ho avuto tanta di tante quelle speranze su quel giocatore che voi non avete idea per come è arrivato più come se ne è andato poi ho sperato ovviamente che non tornasse mai più perché è arrivato che era un ciccione e se è andato che aveva giocato forse tre partite quindi era da stare incisivo zero quindi mi fammi capire nella mia furro ma non troverà mai spazio per quanto riguarda nedver mi sembra migliore del pacchetto e niente ragazzi penso di aver dato un po' tutto quanto ovviamente determinati giocatori va dovete scegliere voi se vale la pena prenderli o meno per quanto mi riguarda io gli schipperei un po' tutto ormai perché non vale più la pena qualcuno ripeto dice ronaldigno arriverà ronaldigno secondo me state tranquilli che il digno in questo pacchetto non arriverà sicuramente tra l'altro c'è un adriano nedved gans ci deve essere un po' per forza mentre gli altri due sono quasi sicuri fatemi sapere voi cosa ne pensate intanto vi auguro una buona pasqua vi ricordo che domani e lunedì non usciranno contenuti se riesco vi porterò un contenuto martedì pomeriggio perché il martedì ricomincio a lavorare quindi saranno un po' giornate abbastanza limitate lo sapete come funzionerà e quindi sotto un certo punto di vista sappiate che sono giocatori forti ma non sono game changer questo è importante vi auguro una buona giornata come sempre buon game a tutti ciao ragazzi auguri ancora